Si è insediato questa mattina a Battipaia il nuovo comandante della polizia locale, Ciriaco Fausto Troisi. Una sfida impegnativa, dice, ma c'è tanta voglia di vincerla grazie alla collaborazione di tutti. Cosa si aspetta da questa città e quale sarà la sua impronta al comando? Quello che mi aspetta dalla città è la collaborazione che penso che ogni singolo cittadino debba a chi amministra, voglio dire alcune cose, dal controllo del traffico, controllo del territorio in genere e il resto. Dalla nuova sfida, che lo è a tutti gli effetti, io comunque provengo da un'esperienza quarantennale nell'esercito, però sicuramente questa è una nuova sfida che riprendo dopo un anno di fermo. Quindi spero di riuscire a dare tutta la buona volontà c'è, quindi di dare tutte le energie necessarie per contribuire, voglio dire, al lavoro ottimo che sta già facendo la polizia municipale qua di Battipaglia, RS. Quindi sono sicuro che troveremo un'intesa con la città che sicuramente i suoi cittadini ci daranno sicuramente una mano a lavorare bene. Che tipo di esperienza accumulato porterà in questo comando e quindi in questa nuova sfida, come lei l'ha definita? Dell'esperienza che sicuramente sarà comune è quella dell'amministrazione del personale sicuramente, perché nell'esercito chiaramente nel mio ultimo periodo è stato quello di comando, qua a Persano, del comando comprensorio. Anche qui c'è meno personale, voglio dire, però comunque l'impiego del personale nell'attività operativa, nella gestione amministrativa e il resto sicuramente sarà un'esperienza maturata che mi aiuterà molto e poi invece sul campo imparerò, voglio dire, il nuovo lavoro con il personale che è qua e quindi poi insieme cercheremo di mettere insieme le due cose, di fare sempre meglio finché è possibile. Fra le criticità c'è quella dell'emergenza sicurezza con purtroppo molti casi di criminalità, anche su questo si deve intervenire, ovviamente in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Sicuramente sì, perché comunque Battipaglia purtroppo non è diversa da tutte le altre realtà cittadine, quindi la criminalità sicuramente è un problema, voglio dire, che dà anche molte preoccupazioni poi alla popolazione che chiaramente non percepisce sicurezza e quindi non si sente tranquilla. Quindi noi ci metteremo il massimo dell'impegno, abbiamo già dei mezzi idoni per poter fronteggiare, voglio dire, la criminalità e il personale che lavora sul territorio, che lavora anche in questa direzione. Quindi ci metteremo sicuramente il massimo, come già sono certo stanno facendo, però la buona volontà e il meglio, voglio dire, possono sempre migliorabili, quindi ci metteremo il massimo. In ultimo, comandante, un appello, un messaggio ai cittadini di Battipaglia? Il messaggio è quello di aiutateci a fare bene il nostro lavoro, quindi il rispetto delle regole si può imporre, ma innanzitutto dovrebbe essere un problema di coscienza civica, voglio dire. Quindi innanzitutto quello che i cittadini possono fare e aiutarci è quello di applicare le regole che si conoscono, a incominciare dal parcheggio, l'attraversamento pedonale e aiutarci anche quando vengono a conoscenza di fatti che secondo loro hanno una rilevanza, diciamo sì, penale e il resto. Quindi noi siamo a loro disposizione e insieme a loro sicuramente faremo tanto. Grazie a tutti.